che bello bellissima ci sono pure quelle drine guardate quanti sono? però questa è quella la vandria che non sono ma secondo me fanno quella strada lì quel tratto lì abbreviano non fanno la strada asfaltata ma secondo me fanno quella strada lì ecco cosa è bello belle Re buono Andiamo? Dobbiamo andare? Dobbiamo andare? Sì. Sì. Adesso mi guarda. Bene, bene, bene. Sì, bene. Dai.